Un'aulamagna della Biblioteca Malatistiana Gremita, quella che nella giornata di ieri a Cesena, ha dato il benvenuto a Massimo Cacciari. Il professore ha approfittato del tempo a lui dedicato per esporre i temi legati al suo ultimo libro, dal titolo Ripensare all'umanesimo, ad introdurre la relazione, l'intervento dell'assessore alla cultura Cristian Castorri. Abbiamo un appuntamento importante, l'appuntamento conclusivo del ciclo magistri, che come è stato detto si inserisce all'interno del programma del Festival della Comunicazione. Riteniamo che la presenza di Massimo Cacciari e l'opportunità di approfondire un contenuto culturale come quello di oggi, ovvero l'umanesimo oggi, rappresenti un'opportunità per tutta la comunità. Una chiave di lettura nuova del pensiero umanistico, quella offerta da Cacciari, meno pacificante e più tragica, che fa i conti con un presente totalmente sradicato dal passato, incapace di costruire un futuro. Non si può immaginare il futuro se non ci si comprende nel proprio passato. E non si comprende il passato se non lo si sa rigenerare. E questo rapporto con il passato oggi è completamente massacrato. Perché i nostri dei, i nostri idoli, è la novità, l'originalità totalmente sradicata. E questo impedisce di realizzare davvero qualcosa di autenticamente nuovo. Grazie. Grazie.